Ciao e benvenuti nel nuovo video di oggi dedicato alla visura CRIF gratis. Oggi vi parleremo di come mantenere il controllo sul vostro stato creditizio, specialmente se state pensando di richiedere un finanziamento o un prestito. Che cos'è il CRIF? Il CRIF è uno degli strumenti principali in Italia che tiene traccia del comportamento creditizio di individui e aziende. Ma sapete come accedere a queste preziose informazioni? Soprattutto, come fare una visura CRIF senza spendere nulla. Importanza del CRIF Quando si parla di prestiti e finanziamenti, il CRIF gioca un ruolo cruciale. Esso raccoglie e gestisce informazioni relative ai prestiti e ai finanziamenti concessi. Queste informazioni sono vitali per le banche per valutare la solvibilità dei richiedenti. Perché fare una visura CRIF? La risposta è semplice, per avere una visione chiara della vostra situazione creditizia. Qualsiasi segnalazione come «cattivo pagatore» può complicare le vostre richieste di prestito. Come fare una visura CRIF gratuitamente? La buona notizia? Per le persone fisiche, la visura CRIF è completamente gratuita. Ecco come potete ottenere la vostra visura. Accedete al sito ufficiale, www.modulorichiesta.crif.com Compilate il modulo online. Indicate il tipo di verifica desiderato. Inserite i vostri dati personali. Allegate i documenti necessari. Inviate la richiesta. Cosa aspettarsi dopo la richiesta? Le tempistiche di risposta variano. Se optate per un servizio a pagamento, la risposta può arrivare in un solo giorno lavorativo. Altrimenti, potreste dover attendere fino a un mese. Conclusioni e considerazioni finali. Monitorare regolarmente la propria posizione nel CRIF è essenziale per mantenere una salute finanziaria ottimale. Non sottovalutate mai l'importanza di una buona posizione creditizia. Grazie per aver seguito il nostro video. Se avete trovato queste informazioni utili, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi consigli finanziari. A presto! Ogni decisione relativa a prestiti e finanziamenti dovrebbe essere presa con attenzione, assicurati sempre di avere una posizione chiara e pulita prima di fare una qualsiasi richiesta creditizia. Nel caso la tua posizione non fosse pulita, scopri chi offre prestiti senza busta paga, garanzie e assegnalati in CRIF.